Com'è? Buono E' un marquito Oh che fame Devi dare il video Sto facendo il video Vuoi che ne gratta un po' il farine, permette? No, sto gratta anche io E' venuta pure al dente, come ha fatto? Buone tasto Buone tasti Sei sicura che è dritto così? Non è dritto adesso Mentre ieri l'ho girato Ho fatto prima orizzontale E poi verticale E quindi ha cambiato Ok Ok È buono un po' mi basta cosa mi basta e me la faccio bastare mi basta l'acqua acqua tocca mi basta Poi dovrai fotografare il passaporto del gatto che noi dobbiamo costruire, poi facciamo la foto, riempiamo tutti i campi, segni particolari, grasso e bavoso. Io ti ho sbavato dappertutto. Io finisco questa grande volta. Buono. Eh, visto? E li avevo di più io? No. Posso continuare a mangiare? Guarda questo sketch. Ogni volta fanno spaghetti. Sì. Spaghetti all'assassina, bruciati. Per secondo c'è questa roba che non si vede, ma si vede al contrario. Comunque carne falla. Ma anche nei video si vede al contrario. Perché al contrario la telecamera. Io non so firmare direttamente. Ah, è sempre a specchio. Se voglio faccio non a specchio, ma poi inquadro il naso. Ok, quindi a specchio e quindi non leggi i marchi. Quel video mi piace di più della foto. Quindi dovrai imparare anche tu, una volta che riesci a firmarmi, facciamo qualcosa. No, uno di questi pranzi, faccio un video completo del pranzo e poi lo mettiamo su YouTube e cominciamo. Dammi il tempo di toccarlo una volta. No, più che altro un giorno dovrò mangiare qualcosa e dire qualcosa. Sì. Beh, c'è chi è il barato di oggi. Un bello. A questo non c'è il quale non c'è il quale non c'è il quale è. Di tutto. A presto il gudo A presto 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 A presto